Partiamo di piede destro, tacco destro, incrocio davanti al sinistro, un tacco su e un cia cia destro in avanti, stessa cosa con sinistro, tacco su e cia cia cia, peso sul destro in avanti e con un cia cia facciamo mezzo giro in senso orario, quindi peso e cia 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 libero a sinistro, peso sul sinistro e cos per se, quindi dietro e dietro e avanti per finire con sinistro e in avanti e libero con il destro, destra e sinistra, incrocio e chasse verso destra incrocio a sinistra e chasse verso sinistra, lato, lato destro, un sinistro e tettato tacco destro, sinistro e tacco destro e tacco destro, tranquillo e approcciando, tacco su, cia cia cia, sinistro su, cia cia cia, peso e cia cia, mezzo giro, peso e indietro e indietro avanti, incrocio e chasse a destra, incrocio e chasse a sinistra, punto lato, lato, tacco, 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 tacco. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti